Che Roberto Di Piazza, nuovo e rieletto sindaco di Trieste, sia un personaggio molto comunicativo e attento al dialogo con i cittadini, era risaputo. E proprio per questo, sul web circolano ormai da numerose settimane una serie di immagini che lo riguardano, corredate da umorismo e talvolta una pungetta nota di sarcasmo. Come è stato per l'ex sindaco Cosolini, nemmeno Di Piazza può sottrarsi alla satira dei social network, si passa dalla terza edizione di Rocky, Roby Di Piazza, con accanto i birilli dei lavori pubblici, emblema della sua attività come sindaco, alla sequenza di promesse, dichiarazioni o riproposizioni di episodi passati che girano attorno alla sua persona. Gli alberi di Natale in primis, con la speranza di molti suoi elettori di poter rivivere un Natale ricco di arbusti in Piazza Unità, ripresa però in questo caso in chiave meno festosa e più seriosa, poi l'ironia sul voto e sui sostenitori dell'una o dell'altra fazione. Per non parlare dell'armamento e della polizia locale, riproposta in chiave humor, con citazione di tre agenti del film Scuola di Polizia, Cara Ima Honey, Moses Hightower e Eugene Tuckleberry, forse l'unico per chi si ricorda i film che di armamento supplementare proprio non aveva bisogno. Quindi il conto alla rovescia riguarda la ferriera, i lavori a Roiano, Melara, la futura giunta, insomma una serie di aspetti che inquadrano il sindaco come un sindaco automa in un'esplosione di idee e progetti. Grazie.